ciao ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale allora qualche giorno fa ho fatto un sondaggio su instagram in cui vi mettevo due opzioni e voi dovevate scegliere tra queste due opzioni e niente alla fine è uscito fuori questa illustrazione che secondo me è fantastica io l'adoro spero tanto che piace anche a voi queste illustrazioni l'ho realizzata con il ipad se in caso vi interessassero dei video su come realizzo queste illustrazioni moda con l'ipad fatemelo sapere qui sotto tramite un commento che magari ci faccio qualche video vi raccomando se non l'avete ancora fatto seguitemi sui miei social iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche così ogni volta che quando usce un nuovo video verrete avvisati e niente penso non ci sia niente altro da dire ragazzi vi mando al proseguimento del video lasciatevi tanti like tanti tanti vi voglio bene grazie comunque per il vostro supporto perché ogni giorno aumentate sempre di più per me questa cosa è veramente veramente importante mi date tanto sostegno e l'apprezzo tantissimo veramente grazie di cuore a tutti vi do un abbraccio grande 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 a tutti è un bacione immenso a tutti voi e ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti 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 grazie a tutti